L'azienda che è in grado di comprendere le reali esigenze del cliente, che è capace di valutare pro e contro di una soluzione tecnica e ne argomenta anche le scelte. In Hungaric possiamo contare su decenni di esperienza e sulla serietà di un'azienda che investe in innovazione, in competenza delle proprie risorse. Sì, è l'attitudine all'innovazione. Lavoriamo per definire il futuro dell'intralogistica, da sempre, per riuscire a offrire soluzioni innovative e uniche ai nostri clienti. Direi dalla tendenza all'omologazione, di chi arriva alle conclusioni troppo in fretta, senza una reale analisi dei bisogni e della realtà che ci si trova di fronte. Le soluzioni progresse in Hungaric sono sicuramente una base di partenza, ma è l'innovazione la fonte dell'ispirazione. L'automazione aumenta la produttività perché razionalizza i processi logistici. È comunque possibile un certo livello di personalizzazione, ma è fondamentale capire, sin dalla fase di progetto, quali sono le peculiarità necessarie e cosa, per migliorare l'efficienza, è necessario cambiare. L'automazione cambia totalmente l'approccio organizzativo. Bisogna assolutamente tenermi conto. Hungaric porta la cultura dell'automazione in quelle aziende che stanno muovendo i primi passi su questo terreno, guidandole nell'identificazione delle loro reali necessità. Per esempio, migliorare o accorciare i tempi di consegna, tenere in testa un aumento di ordini e di fatturato, organizzare spazi e persone, migliorare la sicurezza in magazzino e diminuire il tasso di errore.